Un saluto a tutti amici, oggi siamo ancora qui con gli amici di Driver Genius, del prodotto che avevate visto in qualche video precedente questo perché mi hanno voluto spedire un altro prodotto da testare che finalmente potrebbe risolvere enormi problemi che molte persone come me che lavorano con dispositivi tipo questo che vedete qua sotto che è un coder RDS della AEW hanno per poterli programmare, ovvero trovare dei cavi convertitori, adattatori da USB a seriale come questo che hanno spedito loro che funzionino per davvero e che non abbiano problemi, questo perché qui abbiamo questo bellissimo e storicissimo coder della AEW che genera l'RDS per le stazioni radio, FM eccetera, che ha il suo software di programmazione che comunque girerebbe anche su Windows 10 non ha grossi problemi, però ha un unicissimo problema la maggior parte degli adattatori seriali che troviamo e io qua ne ho il cassetto pieno ragazzi perché ne ho veramente un sacco, adesso va a finire che non ne trovo neanche uno perché ne ho buttati via veramente tanti ma vi assicuro che ho il cassetto pieno tipo di questo, poi ne avevo un altro qua, quest'altro qua ho il cassetto pieno di tutti sti orrendi adattatori seriali e non c'è uno che funziona ogni volta tocca andare a prendere un vecchio PC con una seriale integrata Driver Genius ha però creato questo adattatore che probabilmente, adesso comunque lo testeremo, funziona ha anche la verifica dei segnali tramite lucine dei pin e cose varie andiamo a vedere un po' le sue caratteristiche, non sono niente di particolare adattatore USB da USB a RS232, assegnazione della porta com tramite riavvio tutto automatico non dovrebbe avere un packaging particolare o altro, adesso comunque lo andiamo ad aprire con voi come vedete all'interno della confezione troviamo un sacchettino e all'interno di questo sacchettino c'è il nostro adattatore da USB a seriale, da notare una cosa, ci dovrebbe essere anche il suo piccolo manualetto come Driver Genius ci ha un po' abituato, eccolo qua, con un po' le informazioni aggiuntive come è fatto il cavo e tutto il resto, non dovrebbe aver bisogno di driver aggiuntivi comunque adesso lo verifichiamo ed è possibile acquistarlo in due versioni questa versione che mi hanno spedito è quella con la USB normale ma loro danno anche la possibilità di acquistare la versione con USB-C comunque andiamo a collegarla a un computer andiamo ad accendere questo encoder RDS e vediamo se con questo adattatore seriale funziona allora a questo punto è arrivato il momento di testare il nostro adattatore non ve l'ho forse fatto vedere bene ma comunque la costruzione anche della parte connettore è molto solida, molto buona, è di plastica rigida, anche le viti non sembrano male il cavo è abbastanza lungo comunque compatibilmente con questo tipo di applicazioni sul manuale magari vi accendo la luce che si vede un pochettino meglio e poi hanno poi messo questo piccolo schema dove dà anche la figura di qual è l'utilizzo ideale quindi per programmare eventualmente allarmi, sensori, controlli camere eccetera noi lo useremo per programmare stereo coder come questo quindi la prima cosa che facciamo, spengo la luce per farvi vedere un po' meglio è accendere il nostro coder RDS andiamo a collegare nel retro, nella porta seriale del retro il nostro adattatore lo fissiamo anche con le viti, anche se in realtà non è che sarebbe tanto necessario in questo caso però come potete vedere le viti tengono molto bene, il connettore non si stacca quindi questa è una cosa assolutamente importante prendiamo il nostro PC, io non l'ho mai installato su questo PC però ho il software di controllo del mio iW andiamo a collegargli l'USB, teoricamente dovrebbe anche forse fare qualche lampeggio eccetera controlliamo, direi di sì, come vedete si sta inizializzando il dispositivo prima roba da fare, adesso io non so se voi vedrete sarà andare a identificare sulla gestione dei dispositivi di Windows 10 che tipo di numero di porta COM ha dato a questo adattatore come vediamo sotto porte COM LTP eccetera dal gestione dei dispositivi lui mi ha associato la porta COM 3 ora chiaramente non dovrebbe avere nessun LED acceso o altro perché non è ancora operativo andiamo però subito a provarlo sul software di questo encoder RDS quindi andiamo ad avviare il software lui chiaramente mi dice invalid port number perché non ci sarà la porta COM 3 impostata quindi andiamo su connection no scusate mi sono sbagliato io, le porte in questo caso sono in setup gli andiamo a mettere la COM 3 e chiudiamo, perfetto lui dovrebbe darmi conferma se vede che la porta è attiva mi ha dato conferma e infatti come vedete ci sono anche due LED accesi dell'adattatore segno che sta funzionando a questo punto clicchiamo su connection gli diamo un bel send address per sbloccare diciamo le funzionalità del mio RDS e a questo punto dovrei riuscire ad aver letto tutti i parametri per cui se andiamo per esempio su PSN e lo andiamo a leggere ecco che abbiamo letto la prima riga possiamo leggere tutte le righe come vedete dove c'è attività lampeggiano tutti i LED perché mi sta diciamo rispondendo lui come RDS per quello che è ma andiamo a leggere anche il nostro RT che avevo scritto testa banalmente qualunque cosa sia così come posso andare a modificare il mio in questo caso RT tipo così gli dico send one inviami la prima riga e quando la rivado a leggere come vedete me l'ha modificata quindi sia chiaramente l'invio che la ricezione dei dati me lo sta facendo in maniera corretta la data in teoria dovrebbe essere giusta sì però nel caso diciamo che è giusta perché lui ci prende la data del computer gli diamo un send per sicurezza che così ce l'aggiorna e quando gli diamo un read in teoria dovrebbe darci la data giusta per cui sta funzionando correttamente sia l'adattatore che questo software e quindi l'adattatore soprattutto questo del driver genius per programmare questi apparecchi qua posso ufficialmente dire che funziona perfettamente è un investimento da fare quanto costa? allora sul loro sito costa 32 dollari ma io come sempre vi consiglio di acquistarlo su Amazon dove è vero che costa un po' rispetto ad altri costa 25 euro o un pochettino di più la versione USB-C come vedete ci sono le due versioni ma vi garantisco e ve l'ho fatto vedere che questo funziona per davvero non come tantissimi altri adattatori cinesi che hanno una marea ma una marea di problemi perché hanno i protocolli che si scontrano e questi oggetti chiamiamoli del passato anche non del passato si fa fatica a programmarli e tocca andare a tirar fuori cadaveri di PC e cose varie non necessarie quindi assolutamente un ottimo prodotto questo adattatore seriale della driver genius sono molto contento che me l'abbiano spedito perché insomma confidavo in loro nel fatto che avessero fatto un oggetto realmente funzionante rispetto ad altri e ci hanno azzeccato che dire detto questo vi lascio chiaramente i link per acquistarlo e tutto il resto e vi saluto al prossimo video